e salve a tutti ragazzi sono mattia e come mi conoscete il canale clear matthias cioè vabbè e benvenuti in un nuovo video di brawl stars in questo video voglio in questo video raga cercheremo di salire di livello praticamente perché dovrei fare in quello speciale 6.000 trofei quando arriverò ad 8 bit perché dato che ho iniziato a giocare dalla pasca 2020 non sono ancora riuscito ad arrivarci beh comunque raga detto questo allora iniziamo a fare un po di survival in singolo ho messo solo showdown ho messo solo showdown e vediamo e come brawler ho messo daryl vabbè forse andiamo iniziamo la partita vediamo un improver per se stesso una baby quella lì è un avversario micidiale lì non posso andare perché da lì parte la safe a far lì d'oro devo originale vita però scusate se mi spalate in 50 ma vaffanculo però sto gioco proprio fa schifo davvero mi chiedo perché l'ho installato scusa ma vabbè lasciamo stare vabbè aspetta che aspetta si mi amo no non vuoi teamare vabbè stanno fightando c'è la super di daryl aspetta che oh no la nazione ma scusate ma mi spalate in 50 fa fare il culo meno tre trofei basta mi porta sfiga daryl mi tolgo daryl e mi metto mi metto devo ancora sbloccarli non c'è nemmeno i brawler cromatici nemmeno il brawler pass no no le gemme intanto ho solo 32 gemme vabbè vabbè mi metto jesse vada per jesse vabbè spara ma che cazzo ma scusa no no c'è ma ma raga ma l'avete visto c'è ma si accaniscono tutti su di me in qualsiasi partita faccia qualsiasi partita faccia si accaniscono su di me dai spaccati devi distruggerti è bene è distrutta quella scapola di me nessuno camperato nessun altro camperato neanche qui nessuno camperato i robotoni beh non sono però come quelli i robotoni di ballastarts non sono come i robotoni di di portnite quelli la della season 10 anche della season x dato che c'era c'era il 10 che l'ha scritto il numero romano cioè quella i si ho vinto con il solo povera a favore si sono primo you are first grande vabbè mi metto lì vabbè aspettate raga che adesso devo quel lì si chiama il primo vedo sto nome c'è scritto oh Dio mi segue cazzo ma devi andartene a fare il culo la botta di merda oddio meno male se è canito sulla aspetta che adesso devo si allora rimasti 5 stanno dietro vabbè c'è un dai dai che lo uccide no dai quel che deve uccidere Enrico no ha vinto Enrico si nita al grado 10 più 10 punti stellari aspetta vinci tre tre giochi in sopravvivenza in in solo shadow shadow vabbè raga cioè cioè sono arrivato terzo nell'ultima partita mi metto qualcun altro mettiamoci rosa guarda usiamo rosa proprio perché vabbè forza ho fatto è ora di andare vabbè nessuno camperato qui oh no un corvo oddio due un un surge c'è un un meca paladin surge mamma mia ha capito che sono qui non so se ma è un bug ma cioè perché non ci sono scritti i nomi dei giocatori qui succede spesso mi succede spesso in effetti bene vabbè vabbè l'auto di shelly però la devono rimuovere fa troppo danno cioè mi esco vabbè aspetta che c'ho vediamo dovrei potenziare shelly però non non cioè non ho abbastanza monete cioè you don't have enoch coins vaffanculo però cioè 800 monete mi servono io mi ricordo io avevo speso per per mille monete per per comprarmi il gadget di barley lì beh vabbè però mi metto carl che che spero di devastare con carl vabbè adesso no vabbè lasciamo stare si è regenerato ha regenerato vita aspetta che oh no una shelly quel allora un bull ha pushato un altro bull vediamo facciamo il primo aspetta che aspetta che oh dannazione questi questi brawler qui ok oddio mio dio nessuno cambierà qui bene 5 4 rimasti bene sì mancato vabbè 6 trofei raga vinci 3 giochi in solo showdown ho completato questa sfida questa qui che vedete è gialla sconfiggi 30 nemici con karl vinci 6 giochi con karl forse potrei fare anche queste però vabbè vabbè voglio mettermi bo mi metto bo faccio una partita con bo e poi dopo questa ne faccio un'altra e poi basta se metto a riregistrare perché ma perché grida grida bo io mi ricordo meca bo bo meca che quando fa il grido fa sempre così trovo bello oddio una bibi perché non si stanno push non si stanno buscando a non si stanno mi non si stanno mi si stanno spettacit spettacit si si è ganito sull'orso lanciato da quella nita si chiama Sossi Joppy questa qui ha detto the spirits are calling my name cioè gli spiriti stanno chiamando il mio nome dice beh almeno sono arrivato perso ho vinto 6 coppe 6 trofei cioè ma vinci 6 giochi con Bo bene faccio un ultimo partito raga poi aspetta la faccio con il mio brawler preferito cioè Enrico vabbè ora di prendere di prendere questa cassa brawl no sto laggando no muoviti vabbè lasciamo perdere il power up via ma perché devo laggare neanche l'avevo attaccato io sul 2 no che puttana proprio perché cioè ecco gioca ancora no perché sto laggando sto laggando no non mi muove no vai no ma cos'è dai raga però non ci posso credere voi che state guardando questo video ma vedete questo ciò che succede ciò che succede no ma sto laggando tantissimo ma che è successo prima pure prima non ho laggato ma guarda guarda proprio vabbè c'è vabbè c'è ma proprio c'è no no muovi non posso nemmeno andare a tuta zona dove mi posso escondere adesso mi rimanimo qui sei sei bene cinque rimanenti non posso prendere power up perché l'ho da morire ma no sta ha smesso di laggare ma mi sa che sarà temporanea sta cosa nessuno capiamo qui nessuno capiamo qui vabbè no ma perché laggo ma perché laggo neanche l'ho collegato io sui due vabbè no 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 non vuole proprio caricarsi mi sono la mia vita infatti game over sono morto vabbè vabbè io ma se un'altra partita devo recuperare ancora qualche trofeo forse ancora quattro forse ancora quattro ne devo recuperare quattro due volt no lasciamo stare i power up quello è il primo quello è il primo quello è levato in mare ma oggi non sono invena in mare forse potrebbe essere uno che pima che pregale la gente e faccia fingere di timare ma invece che è il che è il aspetta che vabbè vorrebbe forse ancora un tropeio da o recuperare uno o due magari no lago una retro nani caccia meno male che stai andando sopra l'altra parte oddio Novi Non muove Solo Vabbè raga Te lo dico Il video finisce qui Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video Ciao